La mia esperienza a Boccolt è stata tra le più interessanti tra quelle che ho potuto fare dal punto di vista professionale e vorrei ringraziare tutti coloro che l'hanno resa possibile in particolare Alessandra Paoli. Quello che mi ha colpito è stato innanzitutto il saluto che gli studenti mi hanno fatto appena sono entrata in classe cantando un inno e questo mi ha diciamo emozionato. La scuola che non presenta Bidelli se non nel servizio pomeridiano è una scuola dove si pratica sia la lingua tedesca che quella inglese e per quanto riguarda la mia disciplina l'insegnante invitava i ragazzi a creare alla fine delle lezioni un vero e proprio quaderno quindi questa è una parte dell'esperienza quindi bene mi auguro che questo possa continuare un saluto a tutti e grazie ancora